Due arresti e un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti sequestrate in Valle Vigezza d'opera della Guardia di Finanza di Domodossola. In manette un uomo e una donna che si dividevano lo smercio di stupefacenti, l'uomo di Druogno e la donna di Santa Maria Maggiore. Le fiamme gialle ossolane hanno eseguito perquisizioni nelle loro abitazioni, più una terza in provincia di Milano. In gente la quantità di droga trovata e sequestrata, un chilo e due etti di marijuana, 167 grammi di cocaina e 59 di hashish, oltre a denaro contante. La suddivisione delle sostanze in piccole dosi, il reperimento di un bilancino di precisione avvalorano la tesi che si trattasse di droga destinata allo spaccio. Massimo riservo dalla Guardia di Finanza ancora sull'operazione che risale all'inizio di marzo. dal momento che sono in corso ulteriori indagini per verificare il coinvolgimento potenziale di altre persone.